Le sciarpe devono essere consegnate all'associazione più vicina entro il primo marzo perché poi l'8 marzo alle ore 15 a Lioni ci sarà questa grande manifestazione dove noi srotoleremo tutte le sciarpe e staremo tutte insieme con un bel programma. Una sciarpa realizzata è ferrio ad uncinetto, basta che abbia le tonalità del rosa, si candida per il Guinness dei primati. È un'altra iniziativa a firma dell'AMDOS AMOS delle donne appartenenti alle diverse associazioni irpine e campane che sono riuscite a diffondere il loro entusiasmo coinvolgendo anche anziani, bambini a scuola, qualche marito e papà per una staffetta di solidarietà. Nella sede dell'AMOS di Grotta Minarda la presidente Sandra D'Ambrosio ci racconta il senso dell'iniziativa. Allora lo scopo di questa iniziativa è dare speranza alle donne, alle persone e questo che noi chiamiamo treno rosa ho scoperto proprio grazie alla realizzazione di queste sciarpe essere il treno della speranza, lo chiamo io, la sciarpa che porta tutte queste sciarpe della speranza di queste donne perché c'è stata grande solidarietà e non solo sono state realizzate dalle donne che hanno attraversato la malattia ma proprio da tante persone che si sono sentite vicine, che hanno sentito la necessità di dimostrare attraverso la realizzazione delle sciarpe proprio il sostegno, il sostegno alla speranza perché io credo che la speranza non deve mai morire ma deve essere sempre forte e presente in noi. Visto la grande partecipazione di queste donne si è pensato di raggiungere un Guinness, non sapremo perché i tempi sono stretti, brevi, non siamo riusciti a contattare in effetti il giudice, chi dovrebbe, se ci riusciamo è bene, altrimenti spostiamo la data ma soprattutto è riuscire nel record della solidarietà e questo sicuramente ci saremo riusciti. Ma dopodiché queste sciarpe serviranno ad abbracciare tante persone che hanno bisogno. Il dottore Giannace insieme a lui abbiamo pensato a questo progetto di realizzare delle coperte per i senza tetto oppure per amatrice per le persone che sono in difficoltà perché effettivamente poi questo abbraccio, questo lungo abbraccio di queste donne posso abbracciare anche altri e quindi non morire così.